Marco Zanetti, inesima vittoria del Lugano, importantissima per stare attaccato al treno del quinto o sesto posto. Sì, è stata una partita difficile, non siamo riusciti a trovare subito il ritmo giusto, era una partita tirata, volevamo sicuramente far più gol, però l'importante era portare a casa tre punti contro una squadra che stava facendo bene ultimamente, ha vinto tante partite e sono tre punti importantissimi per noi. Lugano era una delle squadre più in forma del momento, Lugano ha avuto pazienza e in certi momenti non si è fatto prendere dalla foca di voler portare a casa subito il secondo gol e dopo il 2-0 è diventato tutto più facile. Sì, siamo riusciti sempre a segnare prima di loro, però dopo anche loro ci hanno messo un po' in difficoltà, siamo riusciti a trovare un gol in power play anche, però abbiamo continuato a giocare, sappiamo che siamo più forti di loro e questo ci ha dato molta energia e l'abbiamo messo in campo e domani sarà un'altra partita. Quattro partite, 12 punti, non si può più sbagliare perché nessuno mola niente. La classifica è cortissima, lo sappiamo, ogni sera sarà una battaglia, sicuramente non abbiamo paura, anzi abbiamo la cattiveria dentro per portare a casa ogni partita. Poi se abbiamo un portiere così si gioca più tranquilli. Sì, oggi ha parato benissimo, si è arrabbiato alla fine per l'ultimo gol, c'è un po' sgridato giustamente, dobbiamo giocare 60 minuti fino alla fine, però dai, tre punti importanti. Complimenti. Grazie, grazie.